Ma ragazzi Mamma mia che soffretti Allora, quando siete pronti potete iniziare al via del primo tamburo, facciamo partire il tempo Andiamo a fare adesso Siamo tutti eroi, siamo ok Vai anche tu la pesca, vai lì di fronte lì Pesca di beneficenza Cosa è? C'è pesca e... Se ci arriva qui è che siamo alla pesca, ok? Cosa è? Cosa è? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.